Abbiamo invitato sia grandi che piccoli a raccogliere i tulipani. Ne abbiamo piantati più di 40.000 tra tulipani e giacinti. Ci saranno anche tantissime attività, soprattutto indirizzate ai più piccoli, laboratori creativi, eventi, eventi di magia. E poi potrete venire a visitare il nostro giardino a tema Amsterdam, quindi con un mulino gigante e tantissime altre curiosità. Quanti fiori sono presenti e quali tipologie di tulipani? Allora, sono presenti circa 40.000 tra tulipani e giacinti. Tulipani di diverse varietà, un po' di tutti i colori, quindi vari opinti, e 4-5 varietà di giacinti. In più poi abbiamo anche diversi ortaggi, zafferano e insomma altre tipologie di piante più della zona. Primavera, Pasqua e quindi avete anche delle attività per quei giorni festivi? Sì, abbiamo varie attività. Allora, il giorno di Pasquetta si potrà fare i picnic vista a campo, quindi un picnic a bordo campo, tutto colorato e fiorito. In più avremo ogni domenica mattina il laboratorio per i più piccoli, che avremo il laboratorio di semina e di decoro del vasetto, oppure avremo il sabato mattina invece il laboratorio di pittura, rivolto a tutti, sia grandi che piccini. Sarà anche un po' particolare perché non coloreremo con i classici pennelli, ma useremo sostanze naturali come ad esempio fiori, rametti e sostanze biodegradabili. A Pasqua avremo la caccia alle uova per i più piccini e anche il decoro delle uova, in più una sorpresa molto cioccolatosa. In più a Pasquetta avremo i picnic a bordo campo, per chi vuole quindi vi potete portare il proprio pranzo al sacco, e in più avremo il mago Alex che farà tante magie, magie fra i tulipani e magie itineranti, e farà anche uno spettacolo di magia sia per i più grandi che per i più piccini. Quali sono i giorni che aprirete al pubblico e qual è il pubblico di maggior riferimento? Apriremo da mercoledì 13 fino a domenica, quindi da mercoledì a domenica, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30, sabato e domenica anche la mattina dalle 9.30 a mezzogiorno e 30, e è indirizzato a tutti, dai grandi ai più piccoli, alle famiglie, alle coppie, a gente adulta, insomma un po' a tutti. Siete stati soddisfatti per quello autunnale o sperate che ci sia ancora maggior gente per quello primaverile? Speriamo che ci sia sicuramente più affluenza, e niente, noi siamo super cari che aspettiamo solo voi.